Sono come sempre sette appuntamenti nel periodo autunnale e quindi dopo quello bellissimo di domenica scorsa a Montevecchio, appunto come dicevi, abbiamo il prossimo domenica a Montemagione a Metauro, poi seguirà l'appuntamento a San Lorenzo in campo, l'11 ottobre a Cagli, il 18 a Saltara, il 25 a Barchi e si conclude il 1 novembre a Fano nella Basilica di San Paterniano. Gli appuntamenti sono tutti di domenica, domenica pomeriggio, ad eccezione dell'ultimo a Fano per motivi liturgici e comunque sempre di domenica e quindi è un'occasione anche per visitare i luoghi, per fermarsi un attimo ad ammirare le tante bellezze che abbiamo nel nostro territorio. In effetti più che concerti giustamente vengono chiamati itinerari organistici nel senso che questo tipo di esperienza abbina la sacralità del luogo, abbina la musica, abbina l'esperienza sensoriale del territorio che lo circonda. Assolutamente, noi abbiamo la fortuna come poi in tutta Italia, devo dire, di avere tanti luoghi, centri minori che però conservano delle cose, anzi conservano forse più delle città grandi, dei tesori che vanno dal singolo affresco oppure, non lo so, di una cappella stuccata, decorata o appunto gli organi, gli strumenti che sono appunto a tutti gli effetti tutelati dalle leggi dello Stato. Noi nella nostra provincia, nella nostra regione abbiamo tanti strumenti che sono stati restaurati negli ultimi decenni e quindi offrono la possibilità di suonare, insomma, di riproporci quelle sonorità che erano caratteristiche dei secoli passati.